La reggia di Caserta apre le sue porte alle donne vittime di violenza domestica. Sono loro, da quest'anno, a raccogliere le arance prodotte dagli oltre 300 alberi del Parco Reale. Agrumi che poi sono trasformati in una marmellata in vendita online, ma che alla riapertura dei musei si potrà comprare anche nella reggia. Un progetto di economia circolare e solidale avviato dalla cooperativa EVA, una onlus impegnata da decenni nel contrasto alla violenza sulle donne. Nel 2012 ha attivato a Casal di Principe, in un bene confiscato alla criminalità organizzata, un laboratorio che sostiene l'autonomia e l'inserimento lavorativo di donne in condizioni di particolare difficoltà. Le nostre etichette portano il nome delle donne che producono le confetture e le marmellate. Questo per dimostrare per l'ennesima volta il valore aggiunto che quel prodotto ha. Ha dentro la storia di una donna, una storia di riscatto e di forza. I ricavi ottenuti dalla vendita della marmellata saranno destinati interamente ai progetti di tutela delle donne vittime di violenza.